La stragrande maggioranza di tutte le organizzazioni per fare l'attività sportiva, l'esercizio fisico, sono private in Italia e questa è la nostra forza. Quindi c'è poi una rete così diffusa che praticamente è anche facile potervi accedere. Noi con Anif abbiamo fatto un progetto che mi interessa già nel 2011, si chiamava Movimento per la Salute, ovvero abbiamo formato e organizzato 100 medici con 50 istruttori in 10 centri sportivi italiani per organizzare la prescrizione medica dell'esercizio fisico come fosse un farmaco proprio per la salute, per la prevenzione. Ebbene, un progetto privato perché abbiamo provato a livello istituzionale ma non ci siamo riusciti e che ha portato mille persone a fare esercizio fisico per due anni con dei benefici riscontrabili scientificamente. E questo progetto ci ha fatto piacere oggi vederlo applicato nel senso che il ministro Schillaci proprio ne ha fatto un suo progetto, uno dei tanti che sta seguendo, per cui adesso quello che noi abbiamo fatto allora lo stiamo facendo proprio con il ministro della salute, per cui ci sarà in un futuro vicino proprio la prescrizione, il medico sarà in grado di capire se appunto l'onorevole per essa ha bisogno di fare due volte a settimana un certo tipo di attività, aerobico o meno, che lo porteranno e sarà monitorato. Il progetto prevedeva un collegamento costante fra l'istruttore e il medico che aveva fatto la prescrizione. Quindi ecco, nello sport si inserisce anche questo e poi del resto un ente che si chiama sport e salute forse la dice lunga, prima era impensabile, impensabile.